Educare personale specializzato nell'assistenza degli anziani e contrastare l'esclusione sociale sono gli obiettivi del primo Master italiano coordinamento di strutture e attività socioeducative per la terza età ideato dall'Università Suor Ursula Benincasa di Napoli. Il progetto mira la creazione di operatori qualificati in grado di mettere le proprie competenze a disposizione di enti pubblici e privati, RSA, case albergo e circoli di cura per gli anziani. Come spiega il direttore del centro Lifelong Learning dell'Università Napoletana, Fabrizio Manuel Sirignano. La popolazione anziana aumenta in maniera esponenziale, rappresenta oltre il 25% della popolazione. A fronte di questa emergenza terza età ci sono strutture inadeguate e personale poco qualificato. Quindi c'è una grande richiesta di professionisti della terza età. Ad aprire la presentazione del Master la conferenza dal titolo dell'invecchiamento alla prevenzione personalizzata dello scienziato Franco Salvatore, fondatore del Change a Napoli. È importante capire innanzitutto che si tratta di un'attività che ha bisogno di molte competenze, quella di assistenza agli anziani e anche di educazione a quelli che assistono agli anziani o che vogliono assistere agli anziani per avere la massima performance. Le attività prenderanno il via a marzo e si concluderanno a luglio. Le lezioni si svolgeranno integralmente online. Previsto durante il Master anche un percorso di formazione in strutture specializzate. Grazie.